ma che ogni cosa che si faccia da questa parte del campo che era sceneggiata ormai ci siamo affiduati al comune diciamo però è un inedito storaggio abbiamo visto una cosa che non avevo mai visto un ex ministro all'interno che va a citofonare rendendo anche riconoscibile sarebbe stato peggio se non avesse fatto da ministro rendendo riconoscendo facciamolo finire però dai rendendo anche riconoscibile un po' a delle persone io voglio esprimere la mia opinione prima hai detto a lui che non era vera sta roba della giustizia ti assicuro che 23 anni di processo sempre a stonto sono una cosa durissima decisa dai magistrati decisa dai magistrati sa storia che gli avvocati sono bravi a far saltare i progetti non è vera levatevela dalla testa sono i magistrati che hanno l'agenda della politica lo dimostreranno anche col caso Creporetti lo vedremo quindi non dobbiamo scherzare su queste cose perché c'è chi ne paga sulla propria pelle a me è successo tre grandi processi e qualcuno magari ancora non sa che sono stato assolto e questo mi fa molta rabbia detto questo io vorrei stare nel tema delle cose che sono state dette qui perché altrimenti sembra quasi che non ci sia interlocuzione la scala